Oggi a raccontarsi è l'avvocato Fabio Albino, si racconterà ma anche e soprattutto per quella che è un'esperienza davvero particolare, che vediamo di sottolinearne alcuni punti durante la trasmissione. Fabio, io ti ringrazio. No, ringrazio io voi. L'esperienza particolare è l'esperienza del teatro, noi ne abbiamo già parlato qualche volta, però in questo periodo è importante ritrovarla questa esperienza, perché stanno succedendo delle belle cose e io credo che sia giusto sottolinearle. Allora, dove nasce questa passione prima di tutto? Allora, questa passione nasce prima nelle scuole, la nostra esperienza teatrale nasce nelle scuole, in questo senso, con questa associazione che, ripeto, si chiama Senza Appello, lo dico sempre in modo che rimanga impresso in chi ci ascolta, e con questa associazione noi abbiamo cominciato a, da questa idea, andare nelle scuole a parlare di problematiche, di stupefacenti, di bullismo, cyberbullismo, di violenza di genere, però non più facendo il convegno, il relatore, i dibattiti ai quali all'inizio partecipavano poco gli studenti, abbiamo capito che gli studenti sono una popolazione un po' ostica, insomma, non gli va di sentire la conferenza, ma vogliono partecipare. E allora l'idea embrionale nata tanti anni fa, ma perfezionata in questi ultimi anni, è stata quella di fare dei processi, quindi di mettere in scena dei processi veri e propri, con tutte le caratteristiche tecniche, ma soprattutto dei processi con gli attori, quindi c'è il delinquente, c'è il ladro, c'è il giudice, c'è il pubblico ministero, c'è la difesa, i testimoni, per esempio copionare, se mi è concesso questo termine, questi processi, quindi metterli in scena per i ragazzi, ma col trabocchetto, cioè parlando di lotta agli stupefacenti, le conseguenze dello spaccio e dell'assunzione agli stupefacenti, parlare di violenza di genere, di femminicidio, insomma parlare di argomenti serissimi, però tramite un processo con attori, con momenti vivi, con dibatti, diliti, travocati, pubblici, e abbiamo visto che funzionava. Cioè questi ragazzi, terminato questo processo, non ci facevano andare via per le domande che ci facevano, dalla più banale, ma davvero cinque anni di reclusione, ma come è possibile, fino a cose anche più sottili, anche cose simpatiche, se mangio un moncheri, sono in stato di ebrezza alcolica, insomma di tutto, ci veniva chiesto, però quello che ci interessava era l'attenzione di questi ragazzi, mai nessuno si è alzato per andare via in bagno, oppure si è distratto, tutti a prendere appunti, e quindi poi da lì questa esperienza, di questi processi simulati è andata avanti, oggi li facciamo in corte d'appello a Campobasso, grazie al presidente Pupilella, presidente della corte d'appello che non finirò mai di ringraziare, e prima della dottoressa Jesu Lauro, e grazie alla dottoressa Donofrio e la dottoressa Venditti che ci aiutano e hanno sposato appieno la nostra tesi. Da qui abbiamo fatto il passo ulteriore, abbiamo detto scusate, ma se siamo tanto bravi, tra virgolette, a mettere in scena dei processi che sono la nostra attività quotidiana, proviamo a scrivere delle piece teatrali, degli atti teatrali, sempre aventi ad oggetto processi, però un po' più impegnativi, in cui cerchiamo di lanciare dei messaggi un po' più impegnativi, abbiamo studiato i vari Totò, tutti gli attori che si sono impegnati in tante commedie che si svolgono in Aula di Giustizia, Gassman, Sordi e tanti altri, abbiamo un po' affinato la tecnica, ci siamo un po' preparati e abbiamo cominciato a mettere in scena dei veri e propri spettacoli teatrali, sempre aventi ad oggetto il processo e da lì ci dediciamo anima e corpo a questa... Allora, la cosa che vorrei sottolineare è questo, naturalmente è risaputo che nei convegni, per esempio gli interventi lunghi, dopo alcuni minuti, insomma, perdono l'attenzione, il convegno diventa un momento in cui, insomma, non sempre di... per specialisti, ecco, questo è soprattutto, e che invece attraverso questo modo, questa scelta che voi avete fatto, insomma, l'impressione è che siano veramente di grossa attrazione, insomma, io ne ho seguiti alcuni, mi sono divertito talmente tanto, quindi evidentemente c'è un aspetto che è quello importante, quello di, ecco, attraverso il teatro, attraverso anche la caratterizzazione dei personaggi, quindi anche, come dire, andando un po' oltre quello... Sicuramente. Ecco, è un modo in cui probabilmente i primi a divertirsi siete voi. Sicuramente, questo è sicuro. C'è la tensione, c'è l'ansia, perché poi un po' gira la voce, un po' siamo in una realtà piccola, benché adesso stiamo andando fuori in Puglia, nel Lazio, stiamo cominciando a muoverci, ci chiamano e noi siamo contentissimi. La tensione c'è, insomma, la preoccupazione di fare brutta figura nel nostro DNA, anche come Molisani, abbiamo questa cosa, però ci divertiamo tantissimo, anche perché la parola d'ordine è anche improvvisare, nel senso che siamo oratori, più o meno l'avvocato, insomma, è sostanzialmente un oratore, perché quando siamo in scena, in prima linea, non le signiamo dei imprevisti con colpi di scena a catena, per cui ci divertiamo tanto. Ma la cosa importante è quella, cioè parlare in maniera leggera e diretta, anche intervallando la problematica con la battuta, con la risata, perché abbiamo visto che questo rimane. La relazione, giustamente, come dicevi tu, la relazione, se è tecnica per i tecnici, è interessantissima, è fondamentale, ma se è tecnica o solo di morale per persone che ti devono ascoltare un'ora, due ore, alla fine cala l'attenzione, c'è poco da fare. Diventa pesante. L'elemento maggiore è questo, è quello di parlare con una, ecco, come dire, con semplicità anche di argomenti che sono sicuramente impegnativi e sono importanti, e c'è questo livello di comunicazione, che sinceramente è molto forte, perché come se attraverso il racconto poi si sviluppano una serie di percorsi, dove il lato caratteriale dei personaggi è immediato ed è riconoscibile, questo è il punto, cioè è calato nella società perché ognuno di noi ha probabilmente incontrato almeno una volta un imputato che si comportava in quel modo, oppure addirittura un avvocato, quindi un difensore o un pubblico ministero che ci è percepito attraverso dei processi. In realtà il processo è anche un'azione teatrale, anche nella realtà. Certo. Non solo, ma mi fa piacere che tu abbia colto questa caratteristica, non solo, ma poi all'interno di ogni parte ci sono delle sottoparti, cioè il testimone che va in tribunale a testimoniale ha avuto un risveglio particolare, ha avuto i problemi la sera prima, ha problemi in famiglia, gli hanno ritirato la patente, non vede l'ora di andarsene, ha paura a dire la verità, ma la deve dire, oppure ha paura il tribunale, terrorizzato. E questo capita anche al giudice, all'avvocato, cioè l'avvocato pieno di sé, l'avvocato che pensa solo alla parcella, l'avvocato che invece ha sposato la tesi della difesa dei deboli. E questo lo rappresentiamo, lo riportiamo in modo che all'interno di quella figura, di quel personaggio che nella storia ha la sua funzione, cerchiamo però di far capire anche che ha altre funzioni da altre parti. E quindi lo spettatore, e soprattutto il ragazzo, si incuriosisce a questa persona, a questo personaggio, il quale però intanto gli sta parlando degli effetti dirompenti, dello stupefacente, chi sta parlando delle conseguenze che ha avuto per aver alzato le mani sulla compagna. È una sfida che finora ci ha dato ragione. Spero che continuiamo a scrivere delle cose altrettanto simpatiche per portare altri messaggi, che poi la società ce ne offre. Adesso l'alcolismo, per esempio, è un'altra piaga pazzesca. Infatti stiamo scrivendo qualcosa su quello. L'alcolismo fa anche ridere. È drammatico, però vedi una persona ubriaca che sbanda per strada, devi rendere l'idea che è assolutamente una persona pericolosa, assolutamente da recuperare, però magari inciampa, ti vieni a ridere, c'è poco da fare. È un po' come le vignette umoristiche, che vanno sui mali e interviene sui mali della società. Totò, ancora una volta, che faceva di commedia, drammi, anche lugubri. Certo, enormi. Ecco, avete cominciato con diverse situazioni. Poi da qualche anno è andata avanti quella che è una sorta di dimensione, di esagerazione molto forte, io la chiamo così, che è quella di prendere le favole, e neanche le favole, come dire, sconosciute, ma quelle che sono patrimonio dell'umanità. Quindi quelle favole importanti, e farle diventare il soggetto dei processi, in pratica. Quindi la parte consistente, perché siete stati in grado, come dire, di processare, anche personaggi che sarebbero intoccabili. Intoccabili, sì, è giustissimo, come sempre. Sì, anche lì c'è il duplice messaggio. In quel caso è, uno, pensa con la tua testa, e due, l'insegnamento. Cioè, mi spiego, la mamma di Cappuccetto Rosso, che è sempre stata poverina, con la nonnina, che è legata alla nonnina, tanto che manda Cappuccetto a portarle questa focaccia, questa merenda, e ahimè, viene aggredita dal lupo, e chiede aiuto al cacciatore. Invece diventa, può anche diventare, una mamma che si disinteressa completamente della nonnina, cioè, della sua stessa mamma, relegandola in questa casetta. Manda la figlia al buio di notte nella foresta, il lupo che è già braccato in via di estinzione... Una mamma del genere, proprio. Esatto, diventa una mamma del genere, tanto è vero che c'è un passaggio di questo atto, che dice, guarda che la foresta è la vita di tutti i giorni, il lupo sono i guai che ti possono accadere da un momento all'altro, non la discoteca fino a tardanotte, lo stupefacente... Il tuo disinteresse, in realtà, è uno stimolo, perché il disinteresse della mamma è un lasciar sola capuccetto rosso, in questo caso, che è un messaggio, fa ciò che vuoi. Certo, sì. E quindi tentiamo di lanciare anche questo... Che poi è una chiave di lettura molto usata anche da sociologi e da psicologi, insomma, nel loro lavoro, perché spesso e volentieri, ecco, la favola diventa un po' la dimensione sociale, complessiva, e quindi c'è un... ecco, imporre l'attenzione su alcune storture, in realtà, perché stranamente, insomma, è come abituare i piccoli a capire determinate situazioni, un po'. Assolutamente. È un... voglio dire, è un'opera non solo dal punto di vista, come dire, è proprio formativa, su alcuni... Su alcuni... Ci auguriamo che sia così. Io credo che sia così, almeno io, almeno così, l'ho percepita. E poi la vai a percepire da persone che comunque sono in grado di poter, come dire, sia leggere la società attraverso il loro lavoro, ma sia mostrare determinati punti, insomma, determinate strade. Certo. E anche lì, ovviamente, il tutto attualizzato, perché... che poi è stato forse lo sforzo maggiore, quello di riportare questi personaggi, Pinocchio, Peter Pan, riportarli però ad oggi, quindi con le problematiche sociali di oggi, altrimenti continua ad essere un racconto distaccato, mentre invece riportarlo ad oggi, cioè al traffico, allo smog, ha delle caratteristiche di oggi, lo attualizzano. Certo. Alla magistratura odierna, all'avvocatura odierna, perché poi quello siamo, siamo particolarmente competenti in quel settore, ai pubblici ministeri, e attualizzandolo il messaggio abbiamo visto che passa. Stiamo già scrivendo la prossima. Certo. Io ci ho notato anche una sorta di forte autocritica, che poi è quella che scantona in quella che chiamiamo noi autoironia, è un po' prendersi in giro anche. Assolutamente sì. Nello spettacolo c'è un passaggio ricorrente all'avvocato che alla fine, in sintesi, chi mi paga, quanto mi pagate, che non è così, però ci andava di rappresentarci anche in questo modo, per dire, noi lo sappiamo benissimo, che la Vox Populi è anche questo. Certo. Però poi tentiamo nel corso dello spettacolo con le arrivi e finale. C'è una sorta di esagerazione, è chiaro, è tutto molto di proposito. È fatto di proposito. Ecco, io quando ho visto lo spettacolo la prima volta, ho pensato che potesse essere utile, come dire, c'è il senso dell'utilità, non solo nelle scuole, ma io pensavo al suo tempo che potevano essere, come dire, un po' scalfire quelli che erano i tempi, i tempi della giustizia, quindi il tribunale. Guarda, è stato, secondo me, importante poi riuscire a farlo nel tribunale. E quindi, insomma, questa cosa che domani andrà, parte domani, parte domani perché sarà questa dimensione all'interno del tribunale, una delle recite sarà lì. Ecco, raccontami, insomma, come si è arrivati? Ancora una volta si parte dai processi simulati, i famosi con cui abbiamo iniziato, cioè dedicarci alle scuole per parlare alle scuole. Da lì siamo poi passati in tribunale, nell'aula della Corte d'Appello, perché esteticamente, insomma, è più significativo, in cui è anche un certo timore e anche lì sdrammatizziamo. Certo. Per ragazzi, soprattutto, che in tribunale non sono stati mai. Ecco. Perché tu puoi ascoltare la trasmissione televisiva, puoi sentire le trasmissioni specialistiche o anche a una certa età disinteressarti proprio, invece noi ti portiamo in tribunale, lì dove si celebrano i processi. Sì, sì, fisicamente. Quindi, fisicamente, con la Camera di Consiglio, dove decidono i giudici, le gabbie, dove vengono messi i detenuti particolarmente bisognosi di un isolamento, dove parlano gli avvocati, quindi li portiamo sul posto. E già questo è una cosa importante. Con questi processi simulati, nei quali, vorrei dire una cosa, c'è un narratore che spiega dove ci troviamo, cosa succede il giorno, i detenuti, i poliziotti, i testimoni, i periti, insomma, illustra un attimo proprio il sito. E da questa seconda tipologia di processo simulato col narratore sul posto, abbiamo pensato di celebrare all'interno del tribunale anche altre iniziative. Veramente abbiamo anche altre idee, perché qua non ci fermiamo mai, ma vorremmo parlare sempre col Presidente della Corte d'Appello. Verranno stavolta anche i docenti, verranno anche dei magistrati che ci aiuteranno e quindi senza renderla troppo formale la cosa, perché questa è un'altra parola d'ordine, il formalismo non appena si prolunga si perde l'attenzione. Questa è una convinzione assoluta che abbiamo. E poi parleremo con i ragazzi lo stesso, ci sarà un dibattito iniziale, un dibattito finale, durante il tempo per la relazione e la sentenza cercheremo di far scrivere qualche sentenza pure ai ragazzi e così andremo avanti poi anche con questi spettacoli che faremo direttamente in tribunale. Certo, io credo che sia fondamentale e importante, di fondamentale importanza, per una ragione molto semplice, perché secondo me chi non è mai andato in tribunale nel momento in cui viene convocato, perfino per una testimonianza a volte piccola, cioè leggera, niente di trascendentale, si trova di fronte comunque a un problema. Assolutamente vero. A parte che c'è pure qualche avvocato che il giorno prima della causa, della discussione, soprattutto penale, perché ormai il diritto civile si fa telematicamente, si inviano le... Invece no, il penale sei lì, devi arringare, devi esaminare o controesaminare i testimoni, devi opporti... Insomma c'è molto di scenografico, come si diceva prima, però finché non si entra in aula, dove si percepisce immediatamente un po' di tensione, molta serietà, è dunque la giustizia, che la giustizia si percepisce lì. Certo, sì. Io conosco personalmente tanti testimoni, tanti imputati, che veramente sono rimasti impressionati dalla magari unica volta in cui sono venuti in tribunale. lascia un po', ma anche l'abbigliamento, le toghe, il formalismo. È un'esperienza che segna, che tocca. Chiaramente non parliamo degli abituati, ci sono anche quelli che pure fanno macchietta, volendo. Beh, quello è già un altro aspetto, che comunque è una scelta che fa parte delle dimensioni caratteriali. Però io pensavo a questi ragazzi, che comunque si trovano ad affrontare questo elemento, con molta leggerezza, però con molta attenzione. E quindi, ecco, come dire, rompono un po' una sorta di schema, perché entrano in un luogo deputato della giustizia con tutte le maiuscole e si trovano a dover comunque affrontare un momento che sicuramente poi gli farà bene. C'è un annullamento della sottovalutazione del tribunale, perché in mezzo alla strada le solite cose, non ti succederà mai nulla, non è poi così grave, vedrai che ne esci, è giusto uscire nel modo migliore possibile. Ma ci devi passare, perché per i non abituati c'è un forte impatto. Ecco, quindi questa ripresa prevede alcuni appuntamenti all'interno del tribunale, dell'aula, come tu dicevi, della Corte d'Appello. Aula Colitto. Perfetto. E in più, però, ci saranno i soliti, come dire, momenti teatrali all'interno dei luoghi invece teatrali che è il Savoia. Il Savoia, sì, abbiamo ricevuto varie richieste, ma le abbiamo accolte subito con entusiasmo, da molte scuole superiori di Campobasso e poi si sono aggiunte delle medie, addirittura delle elementari di Ripalimosani, di rifare questi processi al Savoia, però solo per le scuole, dedicate ai ragazzi con un biglietto ridotto, con tutta una serie di agevolazioni per i ragazzi, abbiamo colto immediatamente l'invito subito, per cui abbiamo, siamo messi d'accordo con le scuole, avendo ricevuto circa mille adesioni dagli istituti Galanti, Cuoco, Pertini, il ragioneria, Pilla, il linguistico, il biotecnologico, fino alla scuola elementare di Ripalimosani, siamo arrivati a mille, per cui abbiamo dovuto prendere tre mattinate del Savoia, che saranno tre lunedì, sei, venti e ventisette di febbraio, e faremo questo spettacolo solo per loro, 320 la prima volta, 305 la seconda, 318 la terza, più i docenti, molti dei quali l'hanno già visto lo spettacolo, mi hanno detto che tornano volentieri, e quindi anzi che andare a scuola, via, processo alle favole. Beh, insomma, io credo che ci sia, come dire, si misura il successo. Mamma mia, io sì, non me l'aspettavo, era una cosa un po' per scherzo, un po' per fare qualcosa di utile, alla fine, insomma, è stata una cosa veramente bella. Anche perché, insomma, poi da, da questa, da questi allestimenti, poi potrebbero nascere dei laboratori, potrebbero nascere, io credo che anche quei ragazzi che il giorno dopo del processo probabilmente mediteranno su qualcosa, gli insegnanti faranno qualcosa. Lo stiamo già facendo, perché siamo, sì, siamo già andati in un paio di scuole, abbiamo chiesto se dei ragazzi volevano recitare, ci hanno detto subito di sì e li abbiamo inseriti nel progetto dei processi simulati, perché poi lo spettacolo teatrale è un po' impegnativo, lo è, insomma, prove, mimica, nei processi simulati invece abbiamo aggiunto ai nostri copioni dei protagonisti giovanissimi e li fanno i ragazzi delle scuole, stiamo cercando, quindi uniamo anche la scuola di teatro, se c'è concesso il termine. e quindi vedi, quello che io pensavo, cioè nel momento in cui tu cominci, come dire, ad essere punto di riferimento per un aspetto, poi diventa, si allarga, insomma, l'attenzione, diventa un, 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 un qualcosa di nuovo, no? si va ad aggiungere qualcosa di nuovo, io pensavo anche ai lavori poi scolastici all'interno dove ci starà sicuramente un riscontro, qualche giorno dopo sicuramente si farà qualcosa. Ecco, quello che mi interessava sapere oltretutto è anche il tipo di, come voi, ecco, il gruppo, no? Il gruppo, che cos'è questo gruppo, come è diventato, no? Pensi che ci siano stati dei cambiamenti dalla prima recita? Eh, questa è una domanda per la quale bisogna riflettere prima di rispondere. Allora, innanzitutto siamo passati da 11 a circa 40, quindi siamo cresciuti notevolmente, tanto è vero che abbiamo anche un attimo ampliato il cast, diciamo così, non siamo più solo avvocati, ma operatori della giustizia, quindi tra di noi ci sono rappresentanti delle forze dell'ordine, cancellieri, avvocati e, come dicevo prima, magistrati. Il gruppo è un gruppo bellissimo, c'ha un unico handicap, perché sono sempre tutti impegnati, questi avvocati sono sempre impegnati, e quindi conciliare le rispettive esigenze, i momenti liberi non è tanto tanto semplice, soprattutto perché abbiamo deciso già da un paio d'anni che ogni parte la devono sapere 3-4 persone, come si fa nelle compagnie quelle serie, perché se c'è una dei faianze ci deve essere ovviamente il ricambio. Però è un gruppo bellissimo, unitissimo, poi, non dico il successo, insomma, i buoni risultati fanno da collante e soprattutto un'altra cosa giustissima che diciamo prima c'è questa autoironia, prendersi in giro da soli spesso scarica la tensione, ti aiuta proprio a vivere. Ecco, questa era una delle domande che ti volevo porre, ma siccome l'hai tirata un po' tu, io credo sempre che le professioni, alcune professioni soprattutto più di altre, penso a voi avvocati, ma penso ai medici, tante professioni che, come dire, lavorano sulle persone, ecco, per capirci, e con le persone, ecco, diventano a volte un momento di tensione, usuranti, anche, usuranti, eccetera, quindi mi immaginavo che probabilmente le prove, eccetera, diventano anche un motivo per distendersi, assolutamente, quindi ecco, com'era la funzione, questa era un po' la domanda che ti volevo porre. Il discorso è questo, abbiamo dei copioni, ovviamente, ma ci siamo detti, ragazzi, questo è un hobby, è una forma di divertimento, è una forma di divertimento, è una forma, ripeto, di comunicazione col prossimo, quindi, la comunicazione a mezzo di una parte imparata a memoria, comunica meno, scusa, scusa il gioco di parole, cioè cerchiamo di essere proprio noi stessi, con le nostre idee, le nostre estemporaneità, le nostre improvvisazioni, altrimenti, da un lato non ci divertiamo tantissimo, da un altro lato comunichiamo una rappresentazione, la nostra non è solo una rappresentazione, è proprio far entrare la gente in tribunale con noi, con l'imprevisto, e poi ognuno ci mette di suo, nel senso che finora non ho mai visto una rappresentazione uguale all'altra, perché ogni volta capita qualcosa di diverso e di significativo, ma soprattutto volendo interagire con chi ci viene a vedere, ci dobbiamo modulare in base a chi c'è, non è un film che ti può piacere, non piacere, ti soddisfa meno, tu assisti, no, noi interagiamo, quindi è ovvio che, ma anche la scolaresca, senza fare nomi, ma ci sono degli istituti che li vediamo prendere appunti, con i tacquini, e lì c'è più soddisfazione perché ci rendiamo conto che gli interessa tanto quello che stiamo dicendo, ma c'è meno interazione, ci sono altri gruppi che fanno il tifo, cioè e lì ti devi modulare in base, rispetto a quello che hai, oppure ti fischiano e noi quante volte siamo girati dicendo ma che fischi, cioè vogliamo proprio interagire con loro perché il nostro fine è lasciare il segno, lasciare il messaggio e quindi non è una rappresentazione, è un interagire con un carissimo mio amico che faceva l'attore teatrale diceva sempre meno male che il buio, io vedo il buio davanti a me perché diceva sarebbe terribile se mi uscissi a guardare tutti gli spettatori nel volto, no? paralizzati. sì, sarei incapace di poter svolgere questo e questo è per il legame che si crea però perché tu poi tra l'altro lo percepisci ecco questo è il senso, da un palcoscenico si percepisce. rimani proprio... siete diventati più amici? c'è scatta poi una vicina... assolutamente, assolutamente. a forza di fare le prove scattano queste cose. sì, ma poi condividiamo tante cose andiamo a... per esempio andiamo veramente abbiamo intenzione di andare a teatro a Roma Napoli a vedere delle grandi le grandi opere ma vorremmo anche avere un contatto un incontro con qualche attore abbiamo preso qualche contatto con dei comici per esempio vorremmo collaborare con degli ordini professionali di altre zone d'Italia e posso garantire che siamo sempre tutti cioè non manca mai nessuno non c'è mai uno che dica no è troppo lontano da fare e siamo sempre molto molto unici l'avete presa molto sul serio questa cosa perché avete percepito che poteva essere utile ecco da quei momenti in cui si cercava di divulgare senti i copioni te lo faccio dire insomma io so che i copioni li scrivi tutti tu e con più aggiunte probabilmente sì i copioni li scrivo io e poi quando cominciamo a leggere e a rappresentarli ci sono sono emendati mamma mia c'è un continuo afflusso di emendamenti di modifiche di idee ma io sono apertissimo per me il copione è come se l'avessimo scritto tutti e aggiungiamo tant'è che c'è una c'è un c'è un simpatico gioco tra di noi che ogni volta andiamo alle prove con 3-4 copioni diversi sostanzialmente e c'è il nostro regista Pino Venditti che ci prende in giro allora tu che hai il copione del 93 tu hai il copione del 2001 tu hai il copione perché ogni volta aumenta anche perché poi le battute quelle più che vanno più a segno più sagaci io poi le aggiungo proprio formalmente per lasciarne traccia insomma questi copioni li evitano e diventano il frutto di bene ma poi c'è c'è questo aspetto che tu dicevi c'è molta improvvisazione quindi è chiaro che diventa fondamentale diventa fondamentale perché poi è lì poi probabilmente la percezione di quello di dove stai ecco esatto hai colto nel segno cioè l'improvvisazione è rendersi conto di con chi stai parlando e metterti con la sua lingua col suo linguaggio con quello che gli interessa al suo livello sembra brutta come espressione ma in realtà è così è importante altrimenti è proprio la nostra funzione che viene meno non interessa rappresentare un'opera interessa fare gruppo fare scuola fare famiglia fare diciamo condividere dei messaggi che vogliamo dare senti una delle ultime volte che ci siamo sentiti su questi aspetti ecco io ti facevo una domanda sul senso dell'attenzione nel territorio ecco per capirci oggi possiamo dire che l'attenzione è alta c'è stata voglio dire un senso di crescita ma poi siamo stati contattati da più parti abbiamo dovuto purtroppo ahimè dire di no ad alcuni comuni vuoi per ragioni di spazio vuoi per ragioni di di budget dei comuni stessi vuoi perché in questo momento nell'ultimo spettacolo siamo recitiamo in 19 quindi i comuni fanno soprattutto i piccoli comuni fanno tante cose soprattutto nel periodo estivo e allora 19 persone più il tecnico del suono più il regista 20 22 23 persone trovarli liberi a luglio agosto poi avvocati è difficile poi i comuni non hanno molto budget ma non è per i nostri introiti è proprio per le spese vive audio le foniche di trasporto ma abbiamo avuto veramente un sacco di contatti anche da ripeto l'ho detto prima dalla Puglia dal Lazio insomma c'è c'è questa si smetteremo di fare gli avvocati presto avete delle buone possibilità un altro lavoro no diventa importante senti mi hai detto le date del Savoia le date del tribunale e naturalmente ti chiedevo a chi come dire le aperture per il tribunale chi può venire a seguire il tribunale lo spettacolo a Savoia è sempre di lunedì facili da ricordare lunedì sì dal senso sì tribunale invece il venerdì da questo da domani da domani da questo venerdì in poi in tribunale i posti al momento sono tutti già prenotati da varie scuole però contiamo di ripetere questa quindi le scuole anche nel tribunale anche le scuole anche le scuole nel tribunale quindi non solo nel Savoia potrebbero essere già prenotati però ci saranno ci saranno lì mi stavi dicendo che state già come dire pensando al futuro sì ecco io questo su questo futuro ti chiedevo come dire che cosa quali novità potrebbe perché perché ti chiedo questo perché io so perfettamente che ogni rappresentazione ad ogni rappresentazione si aggiunge qualcosa cioè il vostro è un progetto in itinere ma è un progetto completamente come dire innovativo poi diventa sempre più si aggiunge si fa si corregge si presenta qualcosa di nuovo allora per quanto riguarda i processi simulati che non era quello che specificamente ti riferivi però per i processi simulati stiamo scrivendo altre due problematiche e una è l'alcolismo perché ci dicono i dirigenti scolastici ci dicono gli insegnanti che è un problema veramente grave veramente sentito se ne parla poco sembra che sia poi ci siamo anche documentati con delle statistiche sembra che sia un problema assolutamente da affrontare perché è completamente sottovalutato a differenza per esempio degli stupefacenti su cui l'attenzione è alta e quindi scrivere qualcosa che riguardi anche l'alcolismo e poi ahimè il secondo punto all'ordine del giorno sono le baby gang perché poi noi ripeto chiedo scusa ripeto ma ci atteniamo anche al territorio in questo momento sono queste le due nuove ma neanche tanto nuove grandi problematiche queste bande e questo per i processi simulati per lo spettacolo teatrale invece già pronto già stiamo provando il nuovo spettacolo scritto da me ma sicuramente emendato da tutti gli altri in itinere vi posso anche dire come si chiama il titolo è ci vediamo in tribunale ma a mo' di minaccia ci vediamo in tribunale e stavolta però non riguarda le favole ma riguarda altro più di questo non puoi dire no mi interessava molto questo fatto dei due argomenti che sono argomenti uno di forte attualità nel Molise proprio perché è un territorio il nostro questi 136 comuni spesso piccoli dove l'unico punto di riferimento è il bar e l'alcolismo impazza in modo veramente veramente importante voglio dire è vero hai ragione se ne parla poco se ne parla poco spesso e volentieri perché ne devi parlare in termini generali hai difficoltà a parlarne sui luoghi o meno ma dobbiamo dire che ci sono dei territori dove è particolarmente forte e prende anche fasce giovanili molto giovanili e ci sono territori in cui è un vanto sì abusare dell'alcol sì è pazzesco sì è una sorta di superfacente comunque una condanna più o meno vera più o meno sentita ma ormai credo che la coscienza sociale si è come se è sdoganato il problema in alcuni punti diventa una specie di timbro che tu che tu hai perché sei in grado di reggere l'alcol oppure sei oppure se non vai a quella festa a quell'occasione e non bevi che ci vai a fare esatto o altre manifestazioni è un po' una cosa culturale e si è partiti tardi col prevenire comunque ti venti rotto no 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 era questo insomma volevo sottolineare l'aspetto che è un aspetto di forma sociale importante insomma voglio dire Molise è uno è una delle regioni dei territori regionali ai primi posti nelle cose negative non ci facciamo mancare niente siamo siamo lì purtroppo sì e quindi credo che come dire prendere un argomento del genere farlo diventare punto di discussione quantomeno di meditazione insomma diventa peraltro l'alcolismo a differenza dell'assunzione di stupefacenti ma con questo non voglio sminuire il problema degli stupefacenti che è gravissimo l'alcolismo aumenta con l'età l'assunzione di sostanze alcoliche la dipendenza dall'alcol e l'alcolismo cronico con l'età non va scemando paradossalmente perché i problemi di salute aumentano quindi sarebbe consigliabile invece ormai diventa cronicizzato ad libitum per sempre e proprio ragionando su questo ecco io mi chiedevo mi viene insomma da farti questa domanda ecco come si fa io lo so ecco perché ho visto insomma i vostri spettacoli so tecnicamente come possono avvenire i pari passaggi però insomma è una domanda da fare cioè come trattare un argomento drammatico e farlo diventare leggero dunque fare sempre delle domande l'esperienza no allora tenendo presente che noi comunque dobbiamo mettere in scena una vicenda processuale quindi noi abbiamo un vincolo che è un reato che è il reato senza reato noi non esistiamo sostanzialmente se non possiamo fare un processo penale per una contestazione di uno o più reati non c'è venendo all'alcolismo c'è per esempio la problematica della guida in stato di ebrezza quindi l'omicidio stradale che è una cosa drammatica c'è la problematica della della violenza di genere o meno sotto sotto l'effetto di di alcol e quindi mi vengono in questo momento tutte cose assolutamente drammatiche è difficile scherzarci sopra però se riuscissimo per esempio a coniugare l'aspetto umoristico cioè l'ubriacone cronico che viene preso in giro da tutti e incappa in tutta una serie di cose assolutamente umoristiche che fanno loro prendere in giro far ridere oppure anche dei discorsi perché a volte è anche un bel discorso assolutamente sconclusionato fa simpatia però contemporaneamente bisognerebbe poi condannare questo sia l'alcolizzato sia gli approfittatori paventandogli delle conseguenze che possano dare possano essere da insegnamento bisogna scrivere bisogna pensare poi noi facciamo delle prime per vedere che effetto per testare perché altrimenti se non testiamo prima possiamo anche finire per lanciare un messaggio sbagliato quindi facciamo dei test e vedere che effetto che fa ma l'alcolismo è difficile è molto molto difficile perché è una piaga enorme e ripeto non viene presa sul serio quella figura del narratore è una figura sicuramente fondamentale la figura del narratore ha due funzioni ha una funzione tecnica cioè di interrompere il processo per spiegare cosa sta succedendo dal punto di vista proprio tecnico l'esame il controesame le domande suggestive le domande trabocchi ma anche soprattutto ancora una volta la funzione di interrompere il processo nei momenti più salienti quando l'avvocato fa la domanda al violento e il violento dice lei mi deve solo lei è la mia fidanzata sottoposta a violenza e mi deve solo ringraziare perché io l'ho raddrizzata lei senza di me non è nessuno e quindi interviene il narratore per dire capite che meccanismo si sta sviluppando lui è assolutamente il violento è assolutamente convinto di essere il maestro di guida lei si è lasciata persuadere da questa cosa per cui si sottomette la madre c'è anche la figura della madre per esempio che adora il genero violento perché lui è entrato in casa subito la mente e quindi il narratore serve non solo a questi aspetti tecnici ma proprio a mettere i punti esclamativi accendere la luce sui ragazzi per dire fermatevi concentratevi qui perché è qui che nasce la problematica e quindi sottolineare degli aspetti che riteniamo debbano essere evidenziati io approfitto della tua presenza naturalmente della tua disponibilità per chiederti tu e naturalmente i tuoi colleghi che ne pensate di questi cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni dove come dire si può forse affermare che alcuni pezzi processuali vanno a finire nelle trasmissioni televisive al punto tale che diventano come dire una sorta di altro processo io mi sono sempre chiesto modello proprio poi illustrami insomma questa cosa mi sono sempre chiesto se non hanno per esempio una accaduta se non possono poi influenzare gli stessi processi reali allora cosa pensano i miei colleghi non lo so posso dire quello che penso io e qualcuno di loro perché noi nel 2008 abbiamo noi proprio come associazione credo sia credo sia l'unico caso nel Molise nel 2008 organizzammo una manifestazione un evento sempre al Savoia si chiamava su il sipario va di scena il processo era invitato qualche giornalista qualche magistrato anche di Pietro Antonio Di Pietro all'epoca perché il mio il nostro scopo era quello di far capire questo scempio a nostro avviso di queste trasmissioni televisive che non solo fanno gossip non solo marciano sulle sulle sventure processuali di vita ma fanno anche cattiva informazione perché selezionano in peius pezzi di questi processi posso garantire che se si leggono gli atti di un processo quelli reali quelli cartacei e si seguono le trasmissioni televisive di quel processo sono due cose completamente diverse ma sono diverse davvero potrei fare tanti esempi venendo alla domanda è una cosa insopportabile il processo si fa in tribunale anche i drammi si vivono in tribunale questo processo mediatico è una cosa che non serve a nessuno e soprattutto è controproducente per gli avvocati ed è controproducente per gli assistiti se facessimo una statistica io l'ho fatta io l'ho fatta con alcuni colleghi se facessimo una statistica di tutti i grandi casi mediatici che sono stati poi oggetto di queste trasmissioni vedremmo che ad eccezione di uno quello di Perugia Meredith ad eccezione di quello che pure per definirsi ha avuto bisogno di 5 3 5 gradi sono finiti tutti male per gli imputati tutti mi si trovi uno che è finito con una soluzione Garlasco li posso fare tutti a Vetrana Colle San Marco di Teramo tutti sono finiti perché si accentua più si accentua l'attenzione sul caso più si fanno dibattiti televisivi e inevitabilmente più la 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 massa il popolo quelli che seguono si fanno un'idea che difficilmente può giovare all'avvocato difensore in termini di assoluzione perché si sviscerano particolari ematici balistici che alla fine il mostro non è assolutamente agevolato tanto è vero che in questo in questo spettacolo che facemmo sul sipario di scena il processo mettemmo facemmo degli esempi proprio di di cose assolutamente controproducenti per gli avvocati invitandole a non andare più in trasmissione ricordo un intervento dell'avvocato ahimè che ci ha lasciato Erminio Roberto che allora era il presidente della camera penale di Campobasso che invitava gli avvocati a disertare queste trasmissioni perché nulla di buono possono portare se no una sorta di pubblicità all'avvocato stesso c'è un d'impressione proprio che si smantelli proprio che si arriva al processo a cose già fatte però posso dire una cosa da quel po' di esperienza che ho che spesso i clienti te lo chiedono però di fare il processo anche in televisione te lo chiedono loro tanto è vero che in questa stessa manifestazione di cui ho parlato ricordo degli interventi addirittura di alcuni avvocati che ipotizzavano un doppio mandato difensivo io ti do un mandato per difendermi in tribunale ma ti do un mandato mediatico se sai parlare se sai convincere perché io non posso sopportare che comunque mi si facciano questi processi senza che nessuno prenda le mie parte senza tutela e quindi sono spesso proprio loro che subiscono c'è questo percorso che è andato che naturalmente è completamente diverso da anche per i nostri telespettatori è un meccanismo completamente diverso e comunque per rispondere alla domanda si influisce sul processo ma vogliamo credere che i magistrati o i giudici popolari della corte d'assise si facciano ci mancherebbe arrivano con tutte le notizie possibili immaginabili le tesi i giornali le accuse anche perché certi fatti di cronaca si prestano molto voglio dire al senso alcune questioni sono perfino più esagerate nella realtà che non nella finzione per capirci riusciamo a percepire delle storie che sono terribili a volte ma sono completamente neanche un giallista insomma si inventa alcune cose che poi sono accadute è assolutamente così è particolare ecco tornando a noi però ecco c'è questo percorso formativo io lo sottolineo voglio dire questo percorso formativo che è rappresentato da una categoria la categoria di voi avvocati e che come dire prestano la propria la propria dimensione culturale proprio per cercare di far comprendere alcuni dei percorsi che a volte avvengono nei processi o quasi sempre che avvengono nei processi io credo che sia come dire un fatto quasi da adottare stabilmente in ogni parte d'Italia e c'è un passaggio in uno dei processi simulati proprio sul processo mediatico in cui l'avvocato fa proprio questa riflessione fa proprio questa riflessione e cioè si preoccupa si comincia a preoccupare contemporaneamente di questo doppio binario e perde un attimo perde la la bussola diciamo perché addirittura si pone il problema se alcune cose è meglio non farle uscire nel processo perché magari poi si vengono a sapere e finiscono nel processo in tv e quindi c'è poi questo conflitto anche interiore è un dramma senti siamo arrivati alla fine siamo arrivati alla fine di questa conversazione naturalmente ricordiamo che andranno in allestimento quindi sono già pronti e ci sono già gli spettatori cosa insomma che non è tanto normale nella dimensione teatrale già avete tutti gli spettatori e quindi sono aperti quindi tutti questi lunedì di febbraio se non sbaglio tre lunedì e tre venerdì quindi febbraio è chiuso ecco forse non ti ho chiesto qualcosa ma lascio a te come dire la parola per salutare i nostri telespettatori io vi ringrazio tantissimo anche a chi ci ha ascoltato io vi invito a venire perché riflettere sorridendo e ridendo credo sia una cosa oltre che facile una delle cose più belle che possano capitare nelle rappresentazioni in queste nostre iniziative che facciamo è davvero una due ore lo spettacolo un'ora il processo simulato riflettere sorridere credo che sia una cosa buona che invito tutti a farlo e poi aggiungo è un vero e proprio spettacolo teatrale quindi non è assolutamente come dire da sminuire non ha un aspetto amatoriale nel senso negativo ma ha un fatto da persone che fanno un altro lavoro non sono degli attori professionisti però insomma fatto veramente bene anche perché è frutto di esperienza si ormai si mettete l'esperienza al servizio voglio dire bene grazie grazie a voi grazie a voi sempre trovi qui come dire sei a casa ecco grazie tutte le volte che vuoi siamo qua grazie ai nostri telespettatori e insomma ricordiamoci i senza appello io li chiamo i senza appello grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.